Igeneservice è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. La strada che porta alla spiaggia delle viste è una delle più belle e suggestive di Portoferraio e con l'approssimarsi della stagione estiva si accinge a tornare ad essere una delle più frequentate. Ma quest'anno sulla strada c'è un problema, una frana che è venuta giù evidentemente complice le abbondanti piogge di questi giorni, che almeno per oggi non piove però nel fine settimana tornerà a piovere, una frana che blocca la metà della sede stradale e che coperto il muretto rischia di peggiorare con le piogge che arriveranno ancora nei prossimi giorni, anche perché ci sono alberi cadenti, semi abbattuti, che perdendo l'appiglio delle radici sul terreno franato potrebbero contribuire a peggiorare la situazione. L'ospicio è che si intervenga rapidamente con un adeguato lavoro di messa in sicurezza della zona, onde evitare problemi di maggiore entità.